Proseguono le grandi opere di riqualificazione di Pordenone messe in campo dal Comune. Anche il quartiere di Rorai si prepara ad essere sistemato. La prima tranche di interventi partirà a Primavera inoltrata e coinvolgerà il cuore del Rione, e cioè Piazzale San Lorenzo e Via Maggiore. A parlarne è l'assessore ammirante. Gli interventi riguardano Piazzale San Lorenzo e Via Maggiore e sono sostanzialmente il rifacimento dei marciapiedi da ambedue i lati della strada con l'abbattimento delle barriere architettoniche. La realizzazione della zona 30 con la pavimentazione in porfido, la modifica dell'illuminazione pubblica con ovviamente la riqualificazione anche di questo aspetto e anche il nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche. I vertici del Comune hanno presentato il progetto di riqualificazione durante una videoconferenza per condividerlo e raccogliere le istanze dei residenti. È un sistema che abbiamo sempre adottato, quello di compartecipare, di condividere le nostre scelte proprio con i quartieri, una volta dal vivo, oggi attraverso gli ausili informatici. E' solo un passaggio perché se ci mettiamo anche gli interventi sulle scuole, sugli impianti sportivi e sugli edifici, gli interventi sui quartieri sono stati davvero molto numerosi. Quindi è un'amministrazione che guarda con attenzione al centro città come sotto buono, ma dall'altra parte non dimentica i quartieri.